ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video su questo canale oggi andiamo a fare una cosa un po particolare ieri in un negozio ho comprato questa questo box piccolino di plastica per poter fare la zona nursery per quanto riguarda i gruppi nell'acquario vi starete chiedendo e ma non hai mai fatto vedere dei piccoli o no ho fatto un piccolo short che ho pubblicato tipo due o tre settimane fa dove vi facevo vedere i primi piccoli che stavano iniziando ad uscire ora ce ne sono un bel po ce ne sono tipo 15 o 16 messi proprio sulla vegetazione qua sopra l'ho voluta tenere proprio per questo motivo per far nascondere tra virgolette per aiutare i piccoli a crescere soprattutto a vivere perché sicuramente gli altri pesci all'interno dell'acquario se si trovano un piccolino in difficoltà cosa fanno lo vanno a mangiare quindi diciamo che grazie a questa vegetazione stanno iniziando a sopravvivere tranquillamente anche senza il mio aiuto perché adesso io voglio provare a fare la zona nursery ma diciamo per a livello estetico perché ovviamente avere tutta questa vegetazione dopo un po rovina tutto l'acquario perché iniziano ad avere troppe radici perché come potete vedere qua c'erano tutte quelle radici che iniziano a svilupparsi verso il basso e quindi infestano le altre piante le altre piante a loro volta non ricevono la luce necessaria per poter tranquillamente vivere all'interno dell'acquario quindi sono costretto a diciamo prendere alcuni piccoli farli cioè nel senso farli entrare in questa box che sarà poi messa all'interno dell'acquario così possono vivere tranquillamente qua dentro io posso togliere un po di vegetazione ogni volta che nasce qualcuno boh vediamo un pezzo di vegetazione io lo voglio lasciare comunque sia nel caso nei prossimi giorni dovessero nascere altri piccoli quindi adesso vi faccio un piccolo zoom per quanto riguarda i piccolini così almeno li vedete anche voi non si fanno molto vedere perché sono rimasto qua davanti per un po però come potete vedere uno lì uno qua ce ne sono un po anche dentro la vegetazione uno è bello grande che tipo la sotto se riesco a farvelo vedere ve lo mostro adesso però come potete vedere c'è un altro lì piccolino un altro la dietro come potete vedere già sono diventati 3 o 4 qua davanti quindi anche la dietro ce ne sono un po ovvio dal video non rende molto poi andremo a fare un po di manutenzione perché vedo che alcune piante diciamo sono sono morte di quelle là in superficie quindi andiamo a fare anche un po di manutenzione andiamo ovviamente non posso lasciare la box così senza nessuna entrata e uscita di acqua ovviamente farò dei fuori intorno e sotto alla vaschetta e poi sopra ovviamente tolgo il coperchio perché devono prendere un po di di ossigeno e un po di rientro di acqua perché lo metterò vicino all'emissione dell'acqua dopo essere stata filtrata dal filtro quindi così c'è un riciclo continuo d'acqua e possono stare tranquilli poi ovviamente dentro metto un po di vegetazione così possono stare tranquilli e sentirsi a casa adesso andiamo a scaldare un cacciavito un chiodo e faremo tanti fori sopra questa box diciamo che è un po troppo diciamo larga perché avrei preferito avere una cosa un po più fine però questa è l'unica cosa che ho trovato qua in casa non lo volete andare a cercare fuori adesso la mettiamo un po sul fuoco e andremo a fare i fuori adesso ci armiamo di presina ora c'è il fuoco acceso scalderemo questo e poi saremo pronti per fare i fuori non vi faccio vedere il diciamo tutti i fori perché sarà mi sarà una cosa lunga quindi niente niente video ok fuori fatti su tutti i lati tranne questo che poi metterò contro la parete dell'acquario quindi non necessitati fuori sottofatti lateralmente fatti e adesso andiamo ad ingegnarci su come inserirlo all'interno dell'acquario ora ci armiamo di un nastro per poter poi fissare al meglio il contenitore di plastica all'interno dell'acquario con forbici e pinze iniziamo a togliere un po di vegetazione per poter creare un buon habitat all'interno della vaschetta di nursery fai da te all'interno dell'acquario ora vediamo un po anche di prendere qualche pesciolino da inserire dentro uno è entrato da solo ciò ho messo dentro ed entrato quindi adesso andremo a raccogliere gli altri non si è risistemata adesso vi faccio vedere più nel particolare più da vicino come è stata realizzata e se effettivamente funziona adesso andiamo ad abbassare questo cosa c'è all'interno e andiamo ok adesso tutti i pesci sono curiosi ma come potete vedere all'interno abbiamo dei piccolini come potete vedere ce ne saranno tipo 5 6 dentro ora sono magari tutti su perché ho messo un po di pistia sono tutti sulla superficie quindi diciamo che all'interno della nursery ho voluto solo inserire alcuni piccoli che erano più visibili all'interno della dell'acquario gli altri li ho lasciati un po all'interno della vegetazione così se ne stanno belle tranquille ho preso proprio quelli che sono riuscito a vedere immediatamente non ho usato lo spago quindi fissato tranquillamente all'acquario senza problemi se vedo che non regge provvederò a mettere qualche gancio oppure come stavo dicendo poco fa un nastro per poterlo tenerlo saldo all'acquario quindi non ho voluto mettere all'interno la madre quindi non è una vera e propria nursery con la madre ma ho paura che mettendola dentro magari si fa nascere i piccolini ma ho paura che se li mangi quindi devo siccome magari non sono sempre a casa non sono quasi sempre attaccato all'acquario ho paura che magari mi tra virgolette mi dimentico e poi alla fine dentro la nursery rimane solo la madre e piccoli non ci stanno più perché i gruppi tendono le gruppi femmine tendono a a mangiare la propria prole quindi appena lì li fa uscire li partorisce li mangia quasi subito quindi voglio evitare questa situazione quindi rispetto a prima c'è meno vegetazione sopra quindi è un po più verde non è c'è un po più di luce ho pulito un po anche la luce il neon e come potete vedere sono tutti un po curiosi sono tutti intorno a quella vaschettina lì i pesci stanno bene all'interno sono lì tranquilli poi ovviamente inizierò a mettere anche un po più di vegetazione all'interno ho solo messo un po di pisti a come vi ho fatto vedere prima così almeno da renderli la vita più tranquilla possibile quindi effettivamente per creare una nursery fai da te ci vogliono pochi euro pochi centesimi perché quella scatolina è stata acquistata ieri l'ho comprata ieri da action qua a 30 chilometri da qua sono andato a comprarla e costa 44 centesimi quindi con 44 centesimi potete fare tranquillamente una nursery che in in negozio andrete a pagare 5 6 7 8 euro in base alle dimensioni e al materiale utilizzato in questo caso materiale molto morbido quindi non non è non è una plastica rigida era insieme al tappo quindi al coperchio quindi buono se un domani dovessi utilizzarla potrei anche richiuderla e fare qualcos'altro quindi diciamo che è stato un buon acquisto ora vediamo come funziona se vedo che non va cioè nel senso vedo che i piccoli magari non si trovano a loro agio la toglierò e farò qualcos'altro in futuro anche so già cosa fare più o meno ovviamente nella nursery creata apposta per gli avannotti di guppi quindi se nel caso vogliono entrare uscire possono farlo tranquillamente perché i fori sono abbastanza larghi per poter permettere a un piccolino di uscire ed entrare quando vuole quindi se ad esempio si imbattono in un in un buco possono tranquillamente uscire come vi dicevo ci sono ancora degli avannotti fuori uno ad esempio è la uno era vicino al lato sinistro alcuni alcuni sono la dentro sì ce ne sono ancora un bel po in giro così almeno se ne stanno belli tranquilli se vogliono entrare entra se vogliono uscire escono quindi le porte sono aperte nei prossimi giorni devo fare un po più di manutenzione per quanto riguarda gli angolini perché mi accorgo che ad esempio nei lati non arriva la luce necessaria per poter far sviluppare le le piante si prendono la luce quella poca che prendono e riescono a sopravvivere però diciamo che se iniziano ad essere in base da questa pianta qua come potete vedere è totalmente in ombra quindi devo iniziare a sgomberare un po questo lato qua per poter fare un po più di luce qua quindi quindi possiamo dire che il video è terminato qui quindi dopo aver costruito la nursery per gli avannotti di guppi posso dirvi che questo video è terminato qua sotto in descrizione vi lascio comunque il link del gruppo telegram dove andremo a parlare ci daremo consigli eccetera eccetera per quanto riguarda acquari e poi successivamente in estate o in primavera anche possiamo iniziare a parlare di laghetti e pond esterni così almeno la tempo le temperature sono adeguate per poter creare e poter inserire nuovi pesci all'interno delle nostre bosche esterne quindi mi raccomando entra nel canale iscriviti lascia mi piace lascia un commentino se ti è piaciuto il video e niente ci vediamo in un prossimo video ciao